Sì ma non gli arrivano i colpi, sì, vabbè da Eh ma Mike non sai mirare, Mike non sai mirare, così mi dicono eh, mi dicono così, Mike non sai mirare Uh abbiamo un pro playa, dov'è il nostro pro playa? Ma che cazzo me l'hanno fixato No dovevo cazzo, porca di quella puttana, porca Uè come va, oh Uè sharky bye, cazzo eh, oh 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 che occhio che ti cecchinano qua eh Porca la tua madre, senza spesa ovviamente eh, si intende Uh ma zini hai uno dietro, ne hai Questo me lo ti beggo, tutto mio, tutto mio, paz 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 Mi ti begga pure lui, guarda caso un medico, che culo Cazzo ti beghi cogliole, mica mi hai ucciso tu eh, e ti begga La partita è appena iniziata ti ricordo eh, stai attento Questo chi è? Uh spesso eh, ah no non è il rio Va bene, va bene La partita è appena iniziata lo sai vero Sergio ma che cazzo stai facendo qua? Gli mortacci tua, oh meno male che qua c'è un segnalino Uè non lo ti beggo dai, aspettiamo Che cazzo? Ma cos'hai alleato? Stavo dicendo non lo ti beggo, aspettiamo un po' più avanti, aspettiamo Azz, azz, azz No 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 no, porca madonna, guardalo guardalo Fatti love, che facciamo? Rianimiamo oggi? Ah, contribuiamo alla community tossica Beh giustamente dai, contribuisce, che fa? Non contribuisce Ma che ti potesse venire un colucco di ladra Porca la madre Assistenza No no, sento dei passi qua dentro, via 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 Oh, che cazzo è? Mi becca dietro gli oggetti questo Eccolo, guardalo, guardalo Sargente erotio Questo qua mi sembra che in qualche video, ma proprio Cazzo fai zio? Tempo fa L'avevo già incontrato, mi sa, eh Mi sa proprio di sì Vada a quello Dobbiamo andare lì dietro, signore Questo fatto, andiamo un attimo lì dietro, andiamo Eccolo, eccolo Fatto Oh, chi è? Guarda Con lo Z-H No, 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 ma ha fatto più di 52 o 48 di danno, non può essere Z-H Weee, Rhino Jones Cosa ne pensi di ciucciarmi le palle? Ti piace ciucciare le palle? Ma come? Cazzo, io stavo scherzando Però, weee, se ti piace Le palle sono qua Attenzione! Questo vuole invadere No, no, veloce, veloce, veloce Eccolo qua Sharky B Se vediamo Se vediamo Figa, non hanno più nulla per spawnare questi, oh Non hanno più nulla Finita così Dai, giochiamoci già l'altra Senza che qua vi faccia aspettare Comunque 15 kill 3 morti, eh Se non mi dicono E Mike, non dici i risultati perché hai giocato di merda? Non ho problemi a mostrare partiti dove gioco di merda Anzi Ultimamente sto giocando solo di merda È diverso Comunque a Roito ho fatto pure più kill Quindi me lo può ciucciare Attenzione! La mia mappa preferita Ma come Mike? Avevi detto che era la peggiore Sì, di conquista Di conquista la peggiore Ma senza ombra di dubbio, eh Hai finito di fare GTA? Testa di cazzo L'obiettivo Bruno è stato armato Sì, se il gioco ha voglia di scavalcare Guarda, io vado anche a riprenderlo l'obiettivo Ok, c'ha voglia Minchia, quanti sono ragazzi Quanti sono Guarda, quello dove sei No, ragazzi, ma Eh, quello l'ho mancato ormai Quello è vivo? È vivo sì, mortacci Tu Dai, tre colpi entrati Il quarto no Ma vaffanculo Ma l'ho perso pure di vista Ma questo è vivo, eh Ciao Patrick, come va? Mi sa che stiamo spaccando pure questi Mi sa, eh Chi spari? Sì, c'è nessuno Occhio ragazzi, uno in mezzo a qui Eccolo, eh Uno fatto Occhio che ce n'è un altro, eh Eh, ma lì in mezzo Chi cazzo lo vede più? Eccolo, ragazzi Va bene Qua stanno morendo tutti, ragazzi Sì, ok Quello l'hanno fatto Da dietro Ma chi minchia è? Oh, porca madonna Ma beccati sta peroni Beccati Che c'ha detto Oh, come on Aspetta, aspetta, aspetta Tutto mio Ce n'era uno Eccolo Preso Mi ciucci le palle E domani il mondo Ti sembrerà un posto migliore Scopato Scopato Occhio, occhio Ce n'è ancora E scopato, vedi? Dai, ragazzi Madonna Ma manco dietro Sapete coprirmi Chi è che mi sparava? Che poi non c'è nessuno qua Via, via Andiamo su I morsacci di tuo padre, guarda Vabbè, dai Ci sto Cioè, ragazzi Io sto facendo 10 kill Vabbè, adesso sono morto 10-1 Vi faccio notare Come su queste modalità Dove non ci sono i tryhard Perché ovviamente sono mappi aperte Ve l'ho detto anche nello scorso video Si gioca meglio I colpi entrano Vedete la differenza? Eh, no, Mike Ma sei te che sei scarso Eh, stai Stai giocando solo a Call of Duty Ma vai a fanculo, va Testa di cazzo Sì, ma abbiamo tutti gli obiettivi Mi spieghi I dice Cosa posso fare in questa partita? Me lo spieghi, eh? Metti un qualcosa Che bilanci server Perché veramente Cioè, ti rompi il cazzo Così, eh Meglio giocare contro gli scarsi Che con i finti pro player Guarda quello Con l'assalto, eh Classe assalto Assalto Pezzo di merda Assalto Assalto Capito? Fosse stato cecchino Dici, vabbè Cecchino Probabilmente L'avrei insultato Nel caso mi avesse ucciso Però è comunque cecchino Capito? Ti reanimo io Zì, tranquillo Io non gioco per le kill Nonostante io Stia facendo 13-1 No Scopato Oh Quanti sono No No Zì, non posso Sono troppi sono No, mi falcio a sicuro Porca madonna Scopato Uh, aspetta, aspetta Carica, carica Non mi ha visto, vero? No, non mi ha visto Ok Che culo, eh Che culo Assurdo Se no mi dicono Eh, ma il che sei assalto Non Non provo a tirare Giù i veicoli Usi l'assalto Solo per i semi automatici Fatti li cazzi tu Ma non lo so io Oh, ma quello è un nemico, eh Cinque colpi Cinque Che culo No, io Bertrand Te lo giuro Cioè Puoi Insultarmi in qualsiasi modo Ho tirato il TNT a casa E ti ho ucciso Cioè Mi sarei incazzato anche io Insultami, te lo giuro Non ti dico nulla Insultami Insultami Uh, aspetta, aspetta, aspetta Se lo beccavo, ragazzi Chiudevo il gameplay, eh Chiudevo il gameplay Uh, uh, uh Colpito Vedo comunque, eh Non è che sto scemo Pezzo di merda Minchia, carabine M2 Col 3x, eh Impazzito sto ragazzo Signore Qualcuno mi rianima Dai, sì Che se Maxic Vede che ho fatto due morti Poi si incazza Ci parli tu poi, eh Ci parli tu Mi ha detto mai che devi farmi un gameplay Dove fai tanti kill E mori solo una volta Ci parli tu con Maxic, eh Io non voglio averci niente a che fare Io t'ho avvisato Io t'ho avvisato No, a parte gli scherzi Ce n'era No, l'avranno ucciso sicuro Infatti C'era qua Porca ma Stica Minchia, il callio che Lì mortacci Su, wow Aspetta, aspetta Ok, scopato No, ragazzi Non si vedeva Ve lo giuro Cioè, finché non ha iniziato a spararmi Io non lo vedevo Non lo vedevo Non lo vedevo Rianimazione attesa in cassa 2 Ah, grazie Mi dispiace, zi Troppo lento Questo mi becca da dietro i muri Va bene Dov'è andato? Dov'è cazzo andato? Sono facendo una cazzata Però voglio Marci Questa la metto come in Va bene, dai, va bene No, no, sono in serio Incazzato per questa morte Assolutamente No Sono tranquillo Non lo vedi? Tranquillo Vedi? La mano è ferma, vedi? Tranquillo Allora, signori Concludo la partita con i 24 kill Due morti Era una lobby di persone scarse Non c'è per un cazzo da vantarsi Ma veramente un cazzo Prima di chiudere il video però Torniamo un attimo al menu principale Perché voglio leggere un paio di commenti Dell'ultimo video Visto che non lo sto facendo da un pezzo Allora, come sfondo vi metto il mio profilo Così gli haters possono segarsi Sul mio rapporto uccisioni morti Senza veicoli Senza armi del medico No, sto scherzando Allora, no A parte gli scherzi Vorrei leggere alcuni commenti Dell'ultimo video di Battlefield Quello che ho pubblicato Allora, il primo commento è Non censurare gli insulti Ti prego Allora, lo devo fare per forza, signore Perché il mio canale è basato Molto sugli haters Nel senso ci sono parecchi haters Che mi seguono Ma Parecchi Ma veramente parecchi Quindi non posso, signore Li devo censurare per forza Poi anche per il fatto della monetizzazione Vabbè che non si guadagna un cazzo Però È proprio una questione morale Li devo censurare Magari qualcuno Dai, ogni tanto Ci può scappare Bellami che potresti fare un video Sulle tue impostazioni Su Battlefield 5 Ragazzi Io non sono un pro player Cioè Sul serio Non sono un pro player Non avrebbe senso Secondo me Più che altro Gioco con le impostazioni di base Al massimo Ho abbassato un po' la sensibilità Perché Ovviamente Esmiro parecchio L'ho dovuto abbassare Non sono un pro player Ragazzi Ripeto Avevo fatto anche un video Riguardo al campo visivo Ovviamente sul canale Trovate tutte le playlist aggiornate Secondo me Non ha senso Cioè È più un video Per quelli che giocano Veramente bene Che sono veramente forti Per questo non ho mai fatto Un video di questo tipo Dark Io sono ritornato a giocare A Battlefield 4 Ho incontrato un pro player Come dici tu Camperato con il caro Nello spawn Su una modalità conquista E gli ho detto Basta camperare Lui mi ha risposto Se non vuoi i veicoli Vai a giocare a deathmatch Ragazzi Non le calcolate Ste persone È inutile anche Che gli iscrivete Tanto Sono consapevoli Loro stessi Di essere delle mezze seghe Negli fps Per questo giocano In questo modo Quindi È inutile signori Cioè Lasciateli perdere Lasciateli perdere Veramente Sanno già loro Di essere scarsi Non serve Quando fai l'imitazione Degli ether Mi fai scassare Delle risate Lo apprezzo Lo apprezzo Maxi che non è Il più forte del mondo Ma il cronostaro Più forte del mondo In realtà ha dimostrato Cioè Ha fatto proprio vedere Un gameplay Dove usava il pad E riusciva a tenere Il rinculo Quindi Per quanto mi riguarda Almeno per me Le accuse Tra virgolette Sono cadute È un giocatore Forte Molto Molto forte Quindi Fina Secondo me Secondo me Boh insomma I commenti più interessanti Dell'ultimo video Che comunque ok Ci avevo già risposto Però Preferisco che i commenti Li leggano tutti Quindi Ho voluto semplicemente Ritagliarmi una piccola parte Di questo video Così per rispondere A questi commenti Che tutti sappiano le risposte Signori Vi ringrazio in continuazione Per il supporto Sul mio canale Soprattutto sui video Di Battlefield 5 Sono contento che vi piacciano E Nulla Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti